Buongiorno, mi presento, sono Hortensia Marazzi e sono presidente dell'Associazione del Volontariato Abio Crema, associazione per il bambino in ospedale. Al momento ci sono circa 50 volontari che a turno hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a contatto con i bambini degenti dell'ospedale maggiore di Crema nel reparto di pediatria. La missione del volontario Abio è quella di rendere meno traumatica possibile la degenza del bambino in ospedale e lo si fa naturalmente attraverso il gioco, attraverso l'ascolto e attraverso il supporto ai genitori. Quando il 21 febbraio c'è stato il primo allarme di coronavirus siamo stati subito contattati dall'azienda ospedaliera che ci ha chiesto di rimanere a casa e di interrompere la nostra attività di volontariato. All'inizio siamo rimasti molto frastornati e incerti sulla farsi perché era vent'anni che andavamo in ospedale dai bambini. Abbiamo cominciato a produrre sui nostri social, in particolare a Biocrema Facebook, dei tutorial, dei piccoli video nei quali i volontari Abio si adoperano per insegnare ai bambini in ospedale alcuni lavoretti come fare non so, una barchetta piuttosto che un coricino. Alcuni volontari hanno deciso di raccontare storie in modo da poter essere vicini ai bambini in ospedale e fare quello che è proprio nostro, tipico del nostro volontariato che è quello di intrattenere i bambini. E così sulla nostra pagina Facebook abbiamo cominciato a lavorare, provate a vedere questo per esempio.